Un congresso storico si ripeterà anche quest'anno ad Arezzo il 23 e il 24 gennaio. Si tratta dell'incontro teso al dibattito e al confronto tra le fila del Popolo della Libertà promosso dal capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. A parlarcene l'esponente salernitano Enzo Fasano. Consisterà nella prima verifica del lavoro svolto dal partito, che come sapete non ha nemmeno ancora un anno di vita, alla vigilia di una sfida importante che non è solo l'elezione del governatore della Campania ma del governatore di tantissime regioni, quindi di tutta l'Italia. È il primo tagliando, riteniamo noi, che il Popolo delle Libertà stacca in vista di questa sfida ed è opportuno che i territori portino a questo appuntamento un contributo di specificità. Presidente, quali i tratti salienti della conferenza di oggi? Noi ci poniamo come coloro i quali all'interno del PDL hanno un bagaglio culturale e politico che possa dettare quella che sarà la linea nei prossimi mesi e nei prossimi anni di questo grande partito. Ad offrirci il punto di vista dei giovani rispetto all'evento, l'esponente di Giovane Italia, Alessandro Sansoni. Noi vogliamo dare il nostro contributo di idee, speriamo che il Popolo della Libertà sia un partito vero, ricco di idee ma ricco anche di regole. Qui a Napoli il Movimento Giovanile del Popolo della Libertà della Giovane Italia si è fatto a carico di promuovere questo incontro, essendo poi in fin dei conti il vero riferimento di questa componente, diciamo così, che si riconosce nei soggetti prima indicati. Grazie.